domenica di sangue nella retino tre purtroppo le giovani vite spezzate il primo drammatico incidente è accaduto attorno alle 12 e 30 lungo il raccordo perugia bettolle qui un'auto poco dopo fogliano ha perso il controllo per motivi ancora da chiarire a bordo c'era una giovane coppia residente a caserta che nello schianto è stata scaraventata fuori dall'abitacolo lui pasquale vozza di 36 anni sotto ufficiale dell'esercito è morto sul colpo la giovane fidanzata chiaro esposito 33enne insegnante poco dopo mentre veniva trasportata d'urgenza all'ospedale senese delle scotte la coppia stava rientrando a cremona dove entrambi lavorano dopo aver trascorso qualche giorno nella città di perugia poche ore dopo un'altra tragedia ancora un incidente mortale sempre in val di chiana a camucia attorno alle 20 e 30 sul ponte sopra il torrente esse una moto si è scontrata contro un'auto il motociclista giulio innocenzi 37enne farmacista di cortona è risultato subito grave irreversibili le lesioni riportate nonostante disperati tentativi di rianimazione praticati dai soccorritori del 118 l'uomo è deceduto sul posto il conducente dell'auto coinvolta ha riportato traumi lievi ancora da chiarire anche in questo caso l'esatta dinamica dell'incidente il 37enne lascia due figli piccoli e la moglie